per avere poi lo spazio di un dibattito, vista l'importanza dell'argomento di questa sera e del nostro ospite. Andrea Graziosi, laureato con l'Odi in Economia all'Università di Napoli studiando i problemi del lavoro con Vittorio Foa, figura centrale per tanti aspetti nella storia del Novecento e ho portato proprio il libro intitolato Questo Novecento scritto da lui. In seguito ho approfondito i temi del lavoro e da questa prospettiva è arrivato a indagare tutto quello che è il mondo dell'Europa orientale e soprattutto dell'Unione Sovietica. Non vi leggo gli insegnamenti e le ricerche condotte in varie università americane, l'analisi dominante è stata appunto questa degli archivi dell'Unione Sovietica dalla quale analisi sono emersi molti libri fondamentali, opere monumentali per cui il tema di oggi ci permette e direi giustamente finalmente di alzare un po' lo sguardo rispetto a quelli che sono i dati di cronaca dal 24 Ferbaio ad oggi che ci hanno portato a rivedere nelle fotografie dei giornali e nei servizi televisivi immagini che tutti quanti credevamo dovessero rimanere nei manuali di scuola. Invece purtroppo non è così. L'attualità, le incertezze, i punti di domanda che succedono ci mettono una preoccupazione alla quale forse allargando la prospettiva in chiave storica possiamo cercare di dare un po' di senso, un po' di ordine e questi sono i contenuti di oggi. Però oltre che questi aspetti più accademici riferiti alla carriera universitaria del nostro professore mi permetto e mi scuso con lui della sorpresa di andare alla maturità del liceo classico del 1972 perché è la stessa che ho fatto anch'io anche se il professore è molto più giovane. Ebbene sono andato a cercare i quattro titoli di allora e incredibilmente ho scoperto anche con sincera sorpresa che il primo era una specie di programma non solo di un tema ma forse di un'intera vita. Ve lo leggo. È tratto da una lettera di Antonio Gramsci dal carcere al figlio Delio e recita. Tu scrivimi sempre e di tutto ciò che ti interessa nella scuola. Io penso che la storia ti piace come piaceva a me quando avevo la tua età perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini quanti più uomini è possibile tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono fra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacerti più di ogni altra cosa. Ma è così? Chiedeva Antonio Gramsci al figlio. Ecco questa centralità della storia è particolarmente cara e bellissima anche perché si ritrova nei titoli successivi. Io confesso sono rimasto a lungo incerto tra quello che vi ho letto e il secondo dal quale magari trarò se occorrerà una domanda nel dibattito che faceva riferimento a Cattaneo e all'Europa. Non so che tema abbia fatto il professore ma di certo tutto questo che vi ho letto ripeto apre un bello scenario così come sempre rimanendo a quei primi giorni del luglio del 1972 la versione di Greco che ovviamente richiamo solo come tratta dal dialogo giovanile di Platone il menesseno e intitolata Elogio della democrazia atenese. Anche questo è un bel programma, un bel punto di riferimento che sicuramente è rimasto a lungo e sicuramente rimane ancora oggi. Non aggiungo altro e volentieri do la parola al professore Andrea Graziosi. Buonasera, è un periodo di allergia, mi scuso, sono molto allergico quindi ho gli occhi che lacrimano, il naso ogni tanto starnuto, questo mi perdonerete. Comunque buonasera, grazie mille dell'invito alla biblioteca che mi ha invitato e grazie soprattutto a voi che siete venuti. Devo dire che in generale in questo periodo mi chiedono di parlare ovviamente della guerra, degli ultimi 30 anni diciamo dell'Ucraina e della Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E avere un invito invece mi ha riportato alla sua Unione Sovietica che sicuramente c'entra moltissimo anche con gli eventi di oggi quindi non è che io ho cercato di farlo vedere qua e là, mi ha fatto particolare piacere. Detto questo siccome immagino che ci siano curiosità anche sulle cose di oggi, io spero di riuscire a parlare anche se il tema è enorme perché c'è appunto tutta la storia sovietica, quindi farò una cosa molto generale se volete una specie di sguardo a volo d'uccello, non posso mettermi a parlare, non dico di dettagli ma nemmeno cose molto importanti se non in maniera scegliendone alcune come esempi eccetera. Ecco naturalmente però nel dibattito se ci sono domande brevi su anche gli eventi, come le cose di cui parliamo oggi hanno influito su questi eventi, molto volentieri insomma provo a rispondere nei limiti del possibile. Quindi cercherò, io sono un po' chiacchierone come dicono le figlie, cercherò di parlare non più di 50 minuti, 55 minuti in modo da poter fare poi la discussione. In caso mi fermo, alcune cose volevo dire non ve le dico perché preferisco poi rispondere alle vostre domande e casomai allargandomi. Allora appunto il tipo delle cose vi posso dire è sicuramente uno sguardo generale, uno sguardo generale su un fenomeno che ha avuto una centralità grandissima nella storia del ventesimo secolo. Un mio professore importante americano, in realtà era un ebreo lituano di Vilnius, quindi un ebreo polacco più che lituano, ha scritto un libro che si chiama Il secolo sovietico, parlando del ventesimo secolo. Forse è un'asseggerazione, però forse anche no, nel senso che se voi pensate all'influenza della storia sovietica anche su quella del resto d'Europa, non solo attraverso il movimento comunista, anche attraverso la guerra, la guerra civile, i modelli. Se voi pensate all'influenza dell'ideologia, dell'esempio, nel bene e nel male, le tante persone si sono avvicinate e poi si sono allontanate. Se voi pensate al ruolo cruciale nella guerra, la vera seconda guerra mondiale è quella fra Unione sovietica e Germania nazista, che partecipiamo anche noi nel ruolo secondario, ma che fa da sola la gran parte dei morti, diciamo, del secondo conflitto mondiale. Ma se voi pensate anche al ruolo nella guerra fredda o anche rispetto alla decolonizzazione, è chiaro che oggi col senno di poi, secondo me è lecito dire che la guerra fredda ha contato molto meno di quanto non abbia contato la decolonizzazione, per la vita che facciamo oggi, per la storia del mondo, pensate all'emergere dell'India, della Cina, dell'Africa. Però sicuramente questo emergere, che alla lunga si è rivelato essere la cosa più importante, è avvenuto nel contenitore della guerra fredda, una guerra fredda in cui l'Unione sovietica era uno dei due attori preponderanti. Quindi anche anche da questo punto di vista, anche sulla decolonizzazione, la storia dell'Unione sovietica ha avuto un impatto fortissimo. Pensate anche a tanti regimi socialisti che ci sono stati, ma anche in Africa, in Etiopia, in Angola, in Mozambico, per non fare i soliti esempi, quello cinese o quello vietnamita o quello cambogiano. Ecco, se uno guarda, vi ho detto, volendo cercare di capire questa storia, quindi la guarda un po' dall'esterno, se volete, alla storia sovietica adesso in generale, perché ovviamente qualcosa sul prima della seconda guerra mondiale, delle linee guida grandissime vanno dette, anche perché hanno un'influenza ancora oggi, sia in Ucraina che in Russia, per esempio. Pensate all'Ucraina che sceglie la grande carestia del 32-33 come motivo del suo discorso di legittimazione nazionale. Pensate a Putin, che è una persona che allo stesso tempo eleve monumenti alle vittime di Stalin e si richiama allo stalinismo, parlando del pre-39. Quindi è una storia ancora viva, anche sull'oggi, oltre che nel periodo sovietico, dopo la seconda guerra mondiale. Ecco, se uno la guarda, guarda la storia sovietica nella sua interezza, in fondo sono 74 anni, è come la vita umana, una vita umana sostanzialmente. È una storia con due motori, secondo me, si può dire, per capirci. C'è un motore che è la rivoluzione e la guerra civile, non solo la rivoluzione. Anzi, per essere più precisi, prima guerra mondiale, impatto sull'impero russo, le due rivoluzioni del 17 e poi la guerra civile conchiusa da una grande carestia nel 21-22. Quindi sono otto anni di torbidi, si diceva una volta, di rivolgimenti. Questo è il primo motore che innesca, come vedremo brevemente, la seconda grande rivoluzione dall'alto, che è quella che lancia Stalin nel 28-29. Ma c'è un secondo motore altrettanto importante, che è la seconda guerra mondiale, che a sua volta è una specie di guerra e di rivoluzione insieme. Il cambiamento che porta alla seconda guerra mondiale nel regime sovietico è gigantesco, non solo perché arriva fino a Berlino e occupa tutta l'Europa orientale e si stabilisce, diciamo, centro di una cosa che alcuni chiamano impero, che sicuramente è una visione in parte giustificata, da un altro punto di vista è un sistema di tipo particolare. Insomma, anche da questo punto di vista è importante capire che era molte cose insieme. Quindi una storia con due motori principali, il 14-22, diciamo, e poi il 39, se volete, fino in realtà alla morte di Stalin, fino al 53. E' un sistema che ha, con questi due motori, diversi periodi, molto diversi. C'è un primo periodo dopo la guerra civile di pace relativa, sono gli anni della cosiddetta nuova politica economica, poi diciamo una parola a proposito. Poi questa rivoluzione dall'alto che è estremamente brutale è violenta. Poi una seconda guerra mondiale terribile, le vittime sovietiche, quindi anche ucraine, ebrei, bielorussi, russi, di tutte le nazionalità, sono tra i 25 e i 30 milioni, solo loro, i tedeschi, i 10 milioni tedeschi morti sono quasi tutti sul fronte orientale. Per capirci, l'Italia mi pare ha poche centinaia di migliaia di morti, o anche l'Inghilterra. Cioè parliamo di scale completamente diverse. Ecco, a questa seconda guerra mondiale, a questo periodo seguono otto anni di molto brutti sotto Stalin, brutti in termine inadatto, molto pesanti, che spiegano perché perfino il gruppo dirigente non ce la facesse più e appena Stalin è morto lo ha denunciato. Si possono provare a dire alcune cose interessanti. Poi è un periodo che è una specie, se pensate alla storia italiana, per capirci di piccolo miracolo economico occidentale, però molto più breve, molto meno ricco, se volete, porta molto meno benessere, che si arena molto prima. In fondo la crescita italiana dell'Europa occidentale si è arenata negli anni 80, adesso sappiamo, poi ha avuto un periodo di stabilizzazione con l'euro, ma insomma la grande crescita è durata però 40 anni, 35-40 anni. Si chiamano i 30 gloriosi spesso nella letteratura internazionale. Lì in realtà già nel 63-64 il sistema va in stagnazione. Quindi sono 11-12 anni di benessere, iniziano un po' prima della morte di Stalin, finiscono grosso modo con la cacciata di Khrushchev, ma si può dire che arrivino fino all'invasione della Cecoslovacchia. Quindi un ventennio di miglioramenti. Poi una quindicina d'anni di stagnazione vera e propria, uso i termini sovietici di allora, su cui era d'accordo tutto il partito, che portano l'intera classe dirigente sovietica a dire che bisognava fare riforme radicali, le parole che Gorbaciov, che venne letto all'unanimità, non è che tutti volessero le stesse riforme, ma tutti erano d'accordo sul fatto che così non si poteva andare avanti. Erano le parole che lui dice alla moglie in un dialogo famoso prima di assumere, diciamo, al potere come segretario generale. Io vi do un solo dato, poi lo riprenderò. Da noi già nel 1983-85, quando Gorbaciov prende il posto di segretario generale, l'attesa di vita, la speranza di vita italiana, ma anche quella giapponese o quella tedesca occidentale o quella francese, aveva superato gli 80 anni, stava superando gli 80 anni. Cioè continuava a crescere. In Unione Sovietica, dopo aver raggiunto i 63-64 anni, a metà degli anni 60, come da noi, nell'85 era scesa di nuovo a 61 anni. Solo per dare, cioè era una vita pesante, una vita dove il motivo vero era l'alcolismo, poi ne parleremo. Infatti Gorbaciov fu uno dei primi provvedimenti su cui c'era l'accordo di tutti, è un regime proibizionista durissimo, naturalmente uno dei fattori dell'impopolarità, perché voi non sapete che non c'è nulla di più impopolare del proibizionismo. Non c'è nulla di più impopolare del proibizionismo. Tutti sappiamo che Roosevelt, quando venne eletto presidente nel New Deal nel 1933, il primo provvedimento arrivato al potere fu di abolire il proibizionismo con delle norme feste popolari. Ecco, quindi un periodo convulso di riforme che termina con un crollo pacifico del sistema. Pensate al crollo jugoslavo, che innesca subito delle guerre sanguinosissime molto vicino a noi, specialmente, scusate a voi, mi pare che fra il 92 e il 95 ci sono 200 mila morti dell'ex Yugoslavia. Nell'Unione Sovietica ci sono degli scontri sanguinosi, nell'ex Unione Sovietica molto limitati al Caucaso, all'Asia centrale e in confronto non ci sono guerre sostanzialmente. Questo pure è molto interessante. Pensate sempre a pensare all'esperienza sovietica un po' dall'alto. Cioè avete un regime che inizia con tanta violenza, fa una rivoluzione dall'alto così violenta, altri milioni di morti, fa una seconda guerra mondiale così violenta e poi invece finisce con tutti i suoi dirigenti che erano d'accordo a evitare l'uso della violenza. Chi si ricorda, magari i giovani no, ma molti che hanno la mia età o anche di più o un po' di meno. Perfino i golpisti contro Gorbaciov a Mosca nel 91 agosto rifiutarono di usare la violenza per affermare il loro potere. Cioè c'era un accordo generale che la violenza era una cosa che non andava usata. Anche questo è una cosa molto interessante che si può spiegare, io credo, proprio con la violenza. Quindi una storia di 74 anni con periodi molto diversi, con due motori molto importanti, che finisce con un'implosione se volete. Pure questo è molto interessante. Se voi leggete le memorie, le hanno pubblicate anche in Italia delle interviste più che delle memorie, ai membri dell'elite sovietica che firmano gli accordi che portano alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, gli accordi di Bielaviecia in Bielorussia, che erano tutti membri dell'ufficio politico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Anche questo è una cosa importante a tenere presente per l'oggi. Mentre in Italia il fascismo è durato 21 anni, se lo volete contare con la Repubblica di Salò, 23. In Germania il nazismo è durato 12 anni. L'Unione Sovietica è durata 74 anni. Non c'era nessuno da far venire da fuori. Non c'era nessuno del vecchio mondo che potesse intervenire come da noi. Lui ha citato Vettorio Foa, ma anche Alcide De Gasperi a suo modo, Scurso, Nenni, per dirne alcuni. Saragat, erano tutte persone che avevano una vita politica prima e poi dopo. Lì nessuno. Quindi erano persone della stessa cultura sostanzialmente, unite da una cultura molto simile e tutti gli dicono l'Unione Sovietica ci dispiace di scioglierla. E anche questo è interessante, tutti dicono che sono loro che la sciolgono, non è come dice oggi Putin. Non si può non sciogliere perché è un sistema fallito e non ce la facciamo maneggiarlo. Esprimono tutti però l'importanza di fare, uno lo dice proprio, un divorzio consensuale. Di fare un divorzio consensuale che ci porti ognuno a degli stati successori in cui noi ci troviamo a vivere come in delle scialuppe di salvataggio. Anche questo è molto interessante rispetto appunto a questa storia così drammatica. Ora questa storia drammatica, io posso dire solo poche parole sul primo periodo che è interessantissimo, quello diciamo fino alla seconda guerra mondiale. Prima di tutto bisogna tenere presente l'impero russo, era una cosa di grande, è facile parlare della sua debolezza. L'impero russo è scoppiato con la guerra come quasi tutti gli imperi multietnici, però era un impero in grande sviluppo. Io basta ricordare cos'era la cultura russa, la musica russa, la pittura russa, la scienza russa, allora anche l'economia russa. Era un paese in grandissimo sviluppo, quindi l'Unione Sovietica può contare su tantissime risorse, malgrado le distruzioni della guerra e della guerra civile. È un paese dove succede una rivoluzione atipica, questo è importante da capire. Quando Lenin torna, Lenin è il grande inventore politico del ventesimo secolo, uno dei grandi inventori politici, Lenin inventa sostanzialmente tre cose. Uno è il partito Stato, che poi è stato copiato anche da Mussolini, in parte in Italia, anche se Mussolini aveva la chiesa e il re, quindi poi c'erano i carabinieri a restarlo, ma invece l'Unione Sovietica non c'era nulla. Però il partito Stato è una delle forme politiche più di successo del ventesimo secolo, in Cina c'è ancora, ma anche in Corea, ma anche in tanti altri posti. Cioè l'idea di uno Stato animato dal partito è una grande invenzione politica. c'ha dei precedenti, inutile parlarne, tutte le grandi idee hanno dei precedenti, però come formalizzazione. L'altra grande idea che ha Lenin, e questo è molto interessante per il dopo, è facile capire io credo, è che per fare la rivoluzione non si poteva contare sui pochi operai, ma si doveva contare sui contadini e le nazionalità. E se voi ci pensate, al ventesimo secolo è una grande innovazione, quasi tutte le rivoluzioni del terzo mondo sono fatte con i contadini in nome della liberazione nazionale. Tenete presente che quando lui lo dice, i leader bolshevichi, compreso Stalin, vanno da lui e gli dicono tu sei matto, proprio così, un discorso molto franco, tu sei matto, noi siamo marxisti, quindi siamo internazionalisti e non vogliamo moltiplicare le nazioni e vogliamo il socialismo. Se tu fai la rivoluzione contadina vuol dire dare la terra ai contadini, creare milioni di proprietà, quindi stai facendo il contrario di quello che... e lei risponde sì, però se vuoi fare la rivoluzione devi dare la terra ai contadini e dire che vuoi l'autodeterminazione delle nazionalità fino a... se no non fai la rivoluzione. Tutti rimangono molto colpiti, molto anche arrabbiati per questo tradimento. Quando lui riesce a prendere il potere così, ci sono le lettere molto belle in cui lo chiamano il mago, quello che ha reso l'impossibile possibile facendo il contrario di quello che diceva la nostra teoria. Perché questo è interessante da capire? Perché se lui va al potere, perché avevano ragione pure quelli che erano andati da lui naturalmente da un punto di vista teorico, se tu vuoi fare il socialismo usando l'idea della liberazione nazionale di dare la terra ai contadini, una volta che hai guadagnato il potere c'è il problema che hai creato delle cose che non sono socialiste e che quindi devi riportare usando lo stato che hai creato al socialismo. Perché se tu hai dato la terra e la libertà ai contadini, per i contadini la rivoluzione è la terra, è il loro pezzo di terra. Ecco, questo io non posso scendere i dettagli, ci sono molte polemiche, però quando Stalin alla fine degli anni venti dice ci siamo rafforzati, è finita la tregua, possiamo riprenderci il potere a livello centrale rispetto alle nazionalità e soprattutto possiamo andare a togliere la terra ai contadini. Questa è la rivoluzione dall'alto. Però questo vuol dire che per esempio i contadini e anche molte nazionalità vedono in Stalin un agente della controrivoluzione. lui la chiama rivoluzione dall'alto, ma per il contadino che dice mi sta imponendo una nuova servitù, questo non lo dico, io lo dico nei rapporti della polizia politica di Stalin. I contadini leggono la collettivizzazione forzata come il ritorno alla servitù, invece di servire il nobile o la chiesa, servo lo Stato. Quindi fa una grande operazione controrivoluzionaria che vuol dire esercitare un enorme livello di violenza. Pensate cosa vuol dire togliere la terra a 25 milioni di famiglie contadini. Oppure a riportare quelle nazionalità che hanno avuto istituzioni linguistiche, accademie delle scienze, scuole nella loro lingua, perché questo era il compromesso delle nazionalità. Riportarle, non dico, Stalin era abbastanza, contrariamente a Putin, era abbastanza intelligente da capire, Lenin aveva ragione e queste cose formalmente andavano rispettate. Però andavano, era imposto un controllo e una sua promozione del russo. Lui dirà i russi sono nazionalità uguali ma sono il fratello maggiore. Gli altri devono capire che sono il fratello maggiore. Però non abolisce la Repubblica Ucraina, non dice che gli ucraini sono russi come fa Putin. Dirà fino alla fine, anzi li fa ammettere alle Nazioni Unite. L'Ucraina e la Bielorussia sono due dei soci fondatori delle Nazioni Unite. L'Italia essendo stata fascista, sapete le Nazioni Unite si chiamavano Nazioni Unite contro il nazifascismo, noi non siamo ammessi per un periodo. L'Ucraina e la Bielorussia sono nazioni fondatrici, repubbliche fondatrici, perché Stalin sa che abolire del tutto le nazionalità avrebbe portato a delle... che il problema era quindi non negare le nazionalità ma riformarle anche usando la violenza in modo da poterle controllare. Che è il motivo per cui adesso, ripeto, non posso parlare di questo ma è il motivo per cui fra il 30 e il 33 c'è un'enorme guerra contadina di fatto in Unione Sovietica che termina non solo in Ucraina ma soprattutto in Ucraina in una carestia di fatto sterminatrice, organizzata, si può dire, io credo, alla luce di quello che abbiamo trovato negli archivi da Mosca, da Stalin, quindi non dal nazionalismo russo. Per esempio gli ucraini, io ho avuto molte discussioni, io non ci sento, non ricapisce, poi alla fine dico, ma veniva da Mosca, era quindi dei russi. No, era fatta in nome del socialismo, non era fatta. Anche i russi allora soffrivano, questo va detto perché è la verità. Ovviamente per gli ucraini viene da Mosca, quindi sono i russi. È difficile, diciamo, non capirli da un certo punto di vista, anche se non è vero. Ma per esempio una carestia altrettanto terribile e diversa viene fatta contro i kazaki che perdono il 35% della popolazione, contro i tedeschi del Volga, c'erano molte centinaia di migliaia di coloni anabattisti portati lì da Caterina II. Anabattisti e quindi scrivono tutte lettere in tedesco di Lutero, diciamo, biblico, che vengono sterminati anche loro. Cioè c'è un livello di violenza altissimo che culmina, questo è il terrore, il grande terrore, che è importante anche per capire Putin, che culmina nel 36-39 col grande terrore che oggi sappiamo non essere, come disse Khrushchev nel 56, contro i comunisti, dirigenti comunisti, anche se diverse decine di migliaia di dirigenti comunisti furono sterminati e torturati, ma fu soprattutto per categorie, gli ex anarchici, gli ex socialisti rivoluzionari, quelli col cognome polacco, quelli col cognome tedesco, quelli che erano stati condannati a più di tre anni, gli ex kulakici, gli ex contadini ricchi, gli ex preti. Stalin, oggi la chiesa ortodossa russa ha quasi un culto di Stalin, paradossalmente, è un paradosso enorme perché si calcola che la categoria più colpita dal grande terrore siano i preti della chiesa ortodossa, l'80% di morte, come se in Italia un potere rivoluzionario sterminasse l'80% dei religiosi. Eppure poi vedremo come Stalin rifonda, lui la chiesa ortodossa è di fatto nel 39 sciolta, tutti i patriarchi, il patriarca, i vescovi sono ammazzati, deportati nei lager, eccetera, eccetera. Quando vince la seconda guerra mondiale e deve ristabilire il potere nell'Europa orientale, capisce che la chiesa ortodossa russa può essere uno strumento del potere dello Stato e ne permette la riedificazione, addirittura l'elezione un nuovo patriarca. Quindi fonda lui la chiesa che ha distrutto, questa è una cosa molto interessante da capire. Naturalmente in quel periodo, e poi finisco questa prima carellata, c'è anche le radici della modernità sovietica, quella che non funziona tanto bene, c'è un'economia completamente statalizzata, senza iniziative individuali, in cui non si poteva fare, ma non dico l'imprenditore, ma nemmeno il piccolo commerciante, il professionista, bisogna fare quello che diceva lo Stato. Quindi un'economia molto inefficiente, anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. E c'è la grande scoperta, già all'inizio degli anni trenta, man mano che questo tentativo di fare questa rivoluzione all'alto porta a questa guerra interna, c'è la grande scoperta che il nazionalismo russo che Lenin odiava poteva essere un importante elemento per stabilire l'ordine e il controllo. Quindi Stalin, che era come forse voi sapete, un giorgiano, che non era un nazionalista russo, che sterminava, ha distrutto la grande cultura russa, la chiesa ortodossa russa, i contadini russi, ma che da giovane era stato un seguace di Mazzini, questa è una cosa che molti forse non sanno. Stalin giovane era stato un nazionalista giorgiano, lui non aveva letto Mazzini, però scriveva poesie di stile patriottico molto brutte. Stalin capisce che il nazionalismo grande russo può essere la base del suo Stato e quindi inizia a fare discorsi che saltano i vecchi zar, per esempio chi di voi ha visto il famoso film su Ivan il Terribile, i due film fatti da Issa, perché sta dicendo che i costruttori dello Stato, i grandi zar, sono i miei predecessori, un po' come fa anche qui, c'è un'affinità, anche se Stalin era più intelligente, anche se è molto più cattivo. La guerra scoppia con un sistema largamente inefficiente, con un despota che ormai si è trasformato in un despota avendo distrutto tutta la vecchia guardia leniniana, che fa numerosissimi errori, tant'è vero che voi sapete che la guerra va malissimo per l'Unione Sovietica nei primi anni, ma che da questo punto di vista sta in una delle persone più intelligenti, studiando le sue carte, è capace di imparare dai suoi errori, messo a contatto la realtà riesce, che insomma riesce alla fine a vincere questa guerra terribile. Anche questa è una cosa, dovete pensare, è molto importante per capire la Russia dopo il 91, se voi scegliete come discorso di legittimazione la vittoria del 45, inevitabilmente c'è Stalin indietro, non si può alterare la storia, perché è vero che l'ha vinta il popolo russo, o anche gli ucraini, i tatari o chiunque, però al comando c'era Stalin, i generali andavano a parlare con lui, malgrado i tanti errori poi alla fine è lui che ha diretto la vittoria. Quindi scegliere la guerra, come ha fatto il regime già Yeltsin in realtà, ma poi il regime putiniano con tanta decisione, vedremo quale immagini la guerra, voleva dire di fatto rimettere Stalin, perché non si può scegliere il 45 come base del discorso dello Stato e dire che Stalin non c'era, sarebbe come dire prendere la resistenza italiana e dire che non c'erano i comunisti e i socialisti, non lo puoi fare, è impossibile, cioè non riesci a alterare così tanto la cosa. Ora, partiamo da questa guerra, questa guerra, c'è questo bellissimo romanzo, molti l'avranno letto di Grossman, non quello che hanno pubblicato adesso, che Grossman non piaceva che l'aveva scritto per vincere i soldi e i premi, ma vita e destino, in cui Grossman dice una cosa verissima, la seconda guerra mondiale per l'Unione Sovietica ha due significati, c'è un significato di liberazione, di reazione a un aggressore violento e malvagio tra i nazisti, ma anche agli italiani, agli ungheresi, ai rumeni, quindi è una guerra per riaffermare che tu esisti contro un nemico che ti vuole esterminare, quindi è una guerra che ha una radice, se volete, morale di resistenza all'aggressione. E c'è anche una guerra, però, dice Grossman, anche la guerra, soprattutto con il 43 dopo Stalingrado, una guerra di conquista, di fare un impero, di arrivare a Berlino, di prendere Praga, di umiliare i polacchi, di umiliare i baltici, perché è così. Cioè c'è una guerra fatta da… e tutta la coreografia staliniana della guerra. Se voi vedete su YouTube, io consiglio la parata del 45 con Rokossovski sul cavallo nero e Zhukov sul cavallo bianco e quelli che buttano le bandiere naziste ai piedi di Stalin. È tutta una costruzione per dire la guerra come trionfo della potenza, non come resistenza a un aggressore. La guerra è interpretata così. Stalin, quando fa, questo è importante per capire il culto di Stalin dopo, Stalin fa il grande ricevimento ai generali, brinda non al socialismo, al popolo sovietico, brinda al grande popolo russo, dopodiché, e questo è super interessante, procede a vietare le celebrazioni della vittoria. Per 20 anni in Unione Sovietica il 45 non è celebrato, pensate da noi la resistenza il 25 aprile, è vietato, lo fa di nuovo celebrare Brezhnev nel 65, 20 anni dopo, perché Stalin aveva paura dell'altra faccia della guerra. Sapeva che la guerra era anche una rivoluzione contro i despoti, contro l'oppressione. Quindi in Russia c'è un divieto di celebrare la vittoria per 20 anni. È una cosa molto, insomma, abbastanza interessante. Ora, non c'è dubbio che però, il motivo è che quando nel 45 c'è la vittoria, lui la interpreta così, ma moltissimi russi, ucraini, la interpreta come ritorno a una vita aperta, più libera, perché si è fatta la guerra con le parole d'ordine della libertà e della democrazia, quindi non agli anni 30. La guerra deve essere una cosa e ci riporta a una società più libera di quella del grande terrore. Non so se… questo è il motivo, no? C'è una lettura della guerra come sconfessione dello stalinismo degli anni 30, possibile, che è la lettura che Stalin non vuole. E Stalin passa gli ultimi otto anni a reimporre la sua lettura. Finirà, voi sapete, probabilmente, io penso, non abbiamo prove sicure, però i grandi processi, pensava probabilmente anche una grande azione antisemita. Dopo aver fatto la deportazione dei tatari, la deportazione che abitavano in Crimea, dopo aver fatto le grandi punizioni dei popoli, come richiamava, dopo aver fatto le repressioni di quelli che non si conformavano alla sua, dopo aver ammazzato di nuovo molti dirigenti comunisti. Tenete presente che nel 51-52 sia Molotov che Kalinin, Molotov era il suo braccio destro, Kalinin era il presidente dell'Unione Sovietica, avevano le mogli nei campi di concertamento e andavano zitti zitti da Beri a dire ancora viva perché gli volevano bene. E Stalin davanti a loro diceva quella, scusate il tema, è una puttana a Molotov, gli dice a tua morte. C'era uno odiato. C'è questo bel film, in parte non vero, ma sostanzialmente vero sulla morte di Stalin, che è girato qualche anno fa. Se uno lo va a vedere è sostanzialmente vero, ci sono molte imprecisioni, però è un film che rispecchia. C'era un odio per Stalin e allo stesso tempo una paura terribile, una sottomissione. Quando lui muore, rimane per ore, anzi molte, molte ore nella sua, diciamo, nei suoi escrementi, perché nessuno ha il coraggio di toccarlo perché hanno paura di farlo guarire e hanno paura di non di ammazzarlo perché se poi si sveglia. No, ma è una cosa quasi shakespeariano quando leggete i documenti. È molto interessante. Cioè c'è un'intera elite che ha paura ma allo stesso tempo è succube, ma allo stesso tempo... Io guardate qua, non vorrei esagerare perché chiaramente Stalin era un'altra figura storica rispetto a Putin. Io penso che oggi nell'elite putiniana ce n'è ben più di metà che se potesse premerebbe il bottone, perché la catastrofe è enorme. Quindi, vi ricordate che allora l'Occidente pensava in Unione Sovietica ci fosse il totalitarismo, non sarebbe mai cambiato niente. Dieci giorni dopo la morte di Stalin hanno liberato il primo milione e trecentomila persone da Igula. Perché non ne potevano più nessuno. C'era l'aborto vietato, c'erano le leggi sul lavoro che se rubavi un pezzetto di pane ti facevi otto anni di campo di concentramento. Era un sistema iper-repressivo di cui non se ne potevano. Quello che vi ho detto, questo momento buono della vita sovietica, poi coincide in parte con Khrushchev, ma in realtà è iniziato da Beria, che poi viene eliminato. Beria è uno di quelli che fanno le prime liberazioni. È anche questo, anche il fatto che alle donne viene ridato il divorzio, che era stato di fatto quasi abolito, che non viene più criminalizzato in maniera pesantissima l'aborto, che vengono eliminate le leggi sui ritardi, che se facevi dieci minuti in ritardo e fece tre anni di lavoro forzato. Era un sistema pesantissimo. Dopo le grandi speranze del 44-45, pensate a che speranze, se no vinciamo, facciamo la festa, ci sarà una vita migliore. Riavere addosso tutto questo peso. Ecco, questo peso viene, come dire, alleggerito molto rapidamente. In realtà nel 56 c'è il famoso discorso del ventesimo congresso, ma in realtà tutte le riforme sono fatte nei tre anni prima, senza dirlo. Lì c'è un grande dibattito. Dobbiamo o no dire che Stalin era un mostro? Con questo sono tutti d'accordo. C'è un grande dibattito e Togliatti, per esempio, ho scritto una lettera dicendo non lo dire. Perché ci devi insultare il comunismo, come dire, davanti a tutto il mondo? Che bisogno c'è? Tanto era un mostro, lo sappiamo, l'abbiamo liberato, quelli nei campi, la legislazione più terribile l'abbiamo eliminata. Perché devi denunciare Stato? Questo era un pensiero anche di Molotov, anche di altri dirigenti, che pure avevano riavuto la moglie, se l'era ripresa, era un ebrea fra l'altro, una vecchia bolscevica ebrea. E Khrushchev lì fa un atto morale. Io qua vorrei fermarmi due minuti per farvi capire, dove si capiscono tantissime cose. Fa sicuramente un atto morale, ha dietro di sé la maggioranza e l'ufficio politico. Fa un atto morale e dire non si può non dire la verità. Poi non la dice tutta, dirà che il grande terrore era solo contro i comunisti, dirà alcune cose, però non possiamo non dire chi era Stato. Scatenando poi una crisi molto forte, ovviamente, pensate all'insurrezione di Budapest, a quella polacca, alle difficoltà che si è in tutta l'Europa orientale allora. Ma ecco, la cosa che vorrei che voi rifletteste, che operazione fa Khrushchev? Khrushchev dice Stalin era un mostro, ha rovinato il socialismo, ma il socialismo è un sistema forte, è il miglior sistema, l'economia pianificata è migliore di quella privata, noi la costruzione del socialismo fatta, non menziona la carestia naturalmente, la costruzione del socialismo fatta da Stalin e la difendiamo, perché lo Stalin cattivo è quello di fine anni 30 e di quello dopo il 45, quello della rivoluzione all'alto che ha costruito il sistema che abbiamo è uno Stalin buono, prima di che diventasse male. Allora, quindi il sistema sovietico creato nei primi anni 30 viene mantenuto con la sua seconda servitù, vi faccio un esempio banale, i contadini colcosiani, diciamo, che erano ancora una parte rilevante alla popolazione, erano ancora servi della gleba, nel 74 hanno avuto il passaporto interno, non potevano andare nelle città a vivere, però nel 74 potevano andare a muoversi, prima del 74 hanno chieduto un permesso per lasciare il villaggio, si discute di questo per decenni, glielo dobbiamo dare, che tutti avevano la coscienza sporta, poi alla fine glielo danno, però è un sistema molto pesante, 73 o forse 73, però quelli sono gli anni in cui viene dato il passaporto interno ma non il permesso di residenza. Guardate che comunque era molto già meglio di quello cinese, in Cina hanno adottato un sistema simile negli anni 50, lo cuo si chiama, in cui, che poi Deng Xiaoping non ha abolito, ha permesso ai contadini di andare in città, ma per esempio, pensate, i contadini vanno in città in Cina dopo il 70, lo dico perché adesso parlo di Deng per far capire perché è importante il 56 e capire il 78 cinese, fa capire molte cose. Deng Xiaoping dice, va bene, potete andare in città a vivere, però non potete mandare i figli a scuola, non potete avere l'assistenza sanitaria perché voi siete ancora residenti rurali, quindi se avete figli devono andare a scuola nel villaggio, se volete curarvi dovete tornare al villaggio, questo è ancora così in Cina, c'è ancora un sistema di doppia residenza. Ora però è interessante perché quando muore Mao, che come sapete era Liu Xiaohi, che era il presidente, è morto di fame, è chiuso in una cantina, il figlio di Deng Xiaoping è stato buttato giù dall'Università delle Guardie Rosse, il presidente per molti anni è stato dei disabili cinesi, il leader attuale, il padre, che era un amico di Deng Xiaoping, ha sofferto enormemente, credo che la sorella si è suicidata, questo è Xi Jinping. Deng Xiaoping, Stalin muore nel 1953, Mao mi pare nel 1976, mi pare di ricordare, anche qui dopo due o tre anni sbaraccano tutti, ma guardate come sbaracca diversamente, Deng Xiaoping dice noi non dobbiamo fare come Khrushchev, Khrushchev fa attaccato il sistema politico e si è tenuto il sistema economico. Noi ci teniamo il sistema politico, anche se Mao è un mostro, lo dice apertamente, però teniamo la faccia sulla piazza Tienamena e diciamo che è il grande timoniere e smantelliamo tutto il maoismo economico. È la grande scelta delle quattro modernizzazioni, perché a quel punto siamo nel 1976, si sa che il sistema socialista è meno produttivo. Khrushchev nel 1956 non lo sapeva, avrebbe potuto saperlo, ma pensate voi, quando i socialisti, lo dico per capire il clima, non è che Khrushchev era scemo, anzi è molto intelligente, i socialisti italiani quando vanno al potere nel 62, vanno al centro-sinistra, chiedono la nazionalizzazione energia elettrica e la costituzione con Giolitti di una specie di programmazione. Cioè ancora negli anni 60 la parte, diciamo, progressista credeva che nazionalizzazioni e pianificazione fossero strumenti importanti. 20 anni dopo non ci credeva più nessuno, cioè nemmeno Deng Xiaoping ci credeva. Adesso al di là chi aveva ragione ha torto, però questa è la situazione. Quindi è molto interessante, quindi voi avete nel 56, loro attaccano il sistema politico, di fatto c'è una profonda delegittimazione del sistema politico, quella che Deng Xiaoping non fa. E mantengono un sistema economico inefficiente e io adesso uso pochi segnali perché non posso usarne molti, vi do dei dati a cui ho già accennato. Allora i consumi si continuano a sviluppare in maniera positiva fino a metà degli anni 60. Avevano già cominciato a riprendersi prima e morisse Stalin, ma poi con queste liberazioni molto forti dopo il 53 c'era stato un aumento dei consumi, non come da noi. Però ricordate quelli che andavano in Unione Sovietica con le calze, con le colte, ma era famoso, non è inutile che ve lo so ricordare. Però insomma c'è un benessere maggiore soprattutto nelle grandi città. I contadini no, erano ancora come vi ho detto di seconda se non di terza classe. E ancora fino al 63-64 per esempio la stesa di vita, la speranza di vita continua a salire perché il grande motore dell'aumento dell'attesa di vita dopo il 45 nei paesi sviluppati sono i vaccini e gli antibiotici e come voi avrete visto i vaccini e gli antibiotici gli stati lo sanno fare. Cioè io ti vaccino, volente o non volente, io sono volente, però voglio dire lo Stato sa come si fa, l'antibiotico te lo do, e così sono riusciti a portare in tutti i paesi, diciamo così, industrializzati alla metà degli anni 60 la speranza di vita era intorno ai 64 anni. In Giappone, in Unione Sovietica, non nella parte dell'Asia centrale, ma diciamo in Russia, in Ucraina, nei paesi baltici eccetera. Ecco, i demografi fra l'altro sono convinti che questo si sarebbe fermato lì. Voi sapete che invece molto presto da noi si è tornati a crescere per comportamenti individuali, non si fuma più, non si beve più, si prende la pillola per l'ipertensione che è la cosa che ha salvato più persone forse di tutte nel mondo, perché uno si consumava e poi moriva di malattie cardiache, diciamo così, e molto rapidamente siamo arrivati con comportamenti individuali e quindi non con cose statuali all'età di adesso, a parte la piccola crisi del Covid di 82, 83, 84 anni. Ecco, lì invece molto rapidamente dopo il 64, 65 è ripreso a scendere e la cosa interessante è che è ripreso a scendere fra gli uomini, non si capiva perché, io ho partecipato, io pure non volevo crederci, era l'alcol, è il motivo per cui voi lo sapevano anche loro, nell'85 fanno la grande, come dire, il grande proibizionismo, però anche l'alcol, infatti una popolazione riguarda le repubbliche slave bianche, diciamo, perché quelle musulmane dell'Asia centrale ovviamente non era un problema così rilevante. Perché c'è una così grande diffusione di un alcolismo di un certo tipo? Probabilmente è legato al tipo di modernizzazione, della pesantezza di modernizzazione, che se uno non può fare quello che vuole, ma nemmeno a livello di dire io studio medicina, o io, perché lo Stato dice tu devi fare ingegneria, tu devi fare, no, tu non puoi fare, probabilmente questo pesava enormemente sulla vita. L'altra cosa interessante è che loro decidono di non produrre la pillola, c'è una decisione dell'ufficio politico e di mantenere l'aborto come strumento principale di controllo delle nascite. Beh, ecco, io mi ero, perché pure io non ci credevo quando abbiamo trovato questi dati che ovviamente erano vietati, l'aborto Stalin era stata, l'Unione Sovietica, la Russia Sovietica era stato il primo paese a renderlo legale dopo il 17, è uno dei motivi per cui pensava, Lenin passava per un leader di grande progressismo, Stalin lo vieta dopo le grandi repressioni, dopo le grandi carestie, perché si accorge c'è una crisi demografica enorme, in Ucraina sono morte 4 milioni di persone di fame in 5 mesi, per capire. L'aborto viene vietato, viene fatta una legge che rende il divorzio difficile, viene fatta tutta una politica di incentivo alla natalità delle donne eroine, cioè molto pesante, di stile sostanzialmente copiata da quella fascista, questo perché quella fascista era molto pesante, ma dietro aveva Gini, che è uno dei più grandi intellettuali italiani del ventesimo secolo, sicuramente i più grandi demografi sociologi che ci siano stati. Quando Harvard nel 1936 ha festeggiato il tricentenario, 5 europei sono stati invitati a prendere il dottorato d'onore di Harvard, uno era Corrado Gini, per capire il livello, i più grandi sociologi sono assistenti, quindi le politiche demografiche del fascismo sono state inventate da una persona molto qualificata, anche se erano molto basate sulla repressione. L'aborto viene vietato, viene ripristinato subito nel 1953-54, una delle prime misure che vengono fatte in quell'alleggerimento di cui vi ho detto, ma insomma già nel 1957 c'era praticamente... aborti e nati vivi erano sostanzialmente uguali e dopo di allora gli aborti sono più dei nati vivi. Pensate che segno di depressione, voi sapete che da noi è il 20%, no? Gli aborti sono il 20% dei nati vivi, in alcuni posti il 12, il 13 a seconda dei paesi. Pensate a un posto nel 1970 c'erano 1649 aborti per mille nati vivi. Vi ho detto che vi posso dare solo pochi. Pensate che pesantezza c'è dietro, no? Nella vita delle persone. C'è un grande, come dire, una grande pesantezza che però è in quel momento alleggerita da grandi trionfi internazionali. Questo è molto importante per capire il putinismo e la ripresa nazionalista degli anni 90. Perché è vero che si stava male, però l'Unione Sovietica, grazie soprattutto alla decolonizzazione, diventa rapidamente alle Nazioni Unite per esempio la potenza dominante. Ricorderete Arafat va lì con la pistola, no? A un certo punto le Nazioni Unite fa un discorso con una pistola. Le Nazioni Unite che avevano votato sempre, come dicono gli americani, dal 60 votano, non come dicono i sovietici, ma c'è un'alleanza tra sovietici e paesi decolonizzati. Nixon nel 71-72 è costretto a riconoscere lo status di superpotenza all'Unione Sovietica. Qua sarebbe interessantissimo la cosa che gli americani si rifiutano di fare alla Cina. È abbastanza una pazzia, secondo me, se dovessi dire. Una volta che uno è cresciuto tanto non puoi negargli lo status che ha. non è che io sia filocinese, penso il regime dove non vorrei vivere, però pure l'Unione Sovietica non era bella, c'erano i dissidenti nei manicomi, c'erano appunto gli aborti così, però se uno è cresciuto e ha 12.000, 20.000 testate nucleari, forse lo stesso vale per la Cina. Quindi questa inferiorità dello stile di vita, la pesante, era compensata da una grandiosità di superpotenza che fra l'altro Brezhnev usava, Brezhnev nel 65 fa la prima grande corteo per la vittoria. E molto rapidamente la celebrazione, vi ricordate il discorso sui due motori che vi ho fatto, molto rapidamente la celebrazione della vittoria del 9 maggio diventa più importante della celebrazione della rivoluzione, molto rapidamente, poi negli anni 90 addirittura, però già in epoca brezhneviana, ecco, ho già parlato troppo, però questa distonia fra ruolo di grande potenza riconosciuto e quindi anche strutture di potenza, strutture imperiali, grandi centri di ricerca, di orientalistica, è l'altra grande superpotenza, convive con questa vita depressa e questa convivenza, a un certo punto nel 75 c'era una frase, abbiamo trovato in un archivio bellissimo di Brezhnev, noi siamo abituati a Brezhnev che ha avuto due attacchi, diciamo, e quindi non riusciva più nemmeno a leggere i gobbi, come diciamo, ma Brezhnev non era così prima. Brezhnev dice anche nella giungla vogliono Lenin, abbiamo vinto la guerra fredda, il discorso che fa nel 75 dopo che gli americani sono stati cacciati dal Vietnam e in Angola e in Mozambico intervengono i cubani e fanno vincere la guerra, cioè c'è addirittura un senso di aver vinto con un sistema che non regge, è molto interessante, per cui voi avete che c'è questa illusione di vittoria, per cui già nel 79 per esempio quando c'è l'Afghanistan, che in Occidente viene letta come continuità di vittoria, se voi leggete i documenti interni Kassigin ma anche Brezhnev non volevano invadere la guerra, perché si sentivano deboli, non ce lo fate fare, noi diciamo no, se non lo fate falliamo, uno trova nelle carte una visione molto diversa da quella che si diceva allora da noi. Ecco, lentamente, ma già nel 79-80 come vi ho detto, quando c'è l'Afghanistan nelle carte dei dirigenti c'è questa cosa e così non si può andare avanti. Pensate che in quasi tutte le città medie la carne era razionata. Negli anni 70 l'Unione Sovietica che ha scoperto il petrolio è il più grande importatore di grano e di carne del mondo, non riescono malgrado questo a dare la carne nelle città e sicuramente all'origine le difficoltà alimentari dei paesi del terzo mondo, dell'Africa, perché tutta la produzione extra veniva, loro adesso stanno esportando gas e petrolio, siamo negli anni 70, veniva usata la valuta pregiata per comprare cibo sostanzialmente, perché il sistema non funzionava. Molotov for me era un vecchio, era stato cacciato dal partito comunista per stalinismo, però faceva parte ovviamente dell'elite, si vedeva con tutti eccetera eccetera. Molotov diventa sordastro, come succede a una certa età, chiede un apparecchio acustico al partito e gli arriva un apparecchio acustico sovietico grande così e lui dice no, datemene uno alla Germania occidentale. No, sono cose che uno, sono cose vere però, non sappiamo manco fare un apparecchio acustico per vecchi. Quindi c'è una, come dire, una convergenza su una necessità delle riforme molto forte e nell'83 con Andropov cominciano, dopo che muore Brezhnev, delle riforme abbastanza ispirate a una visione molto, come dire, repressiva però vere e queste riforme poi esplodono con Gorbaciov. Ecco, questo è interessante perché queste riforme, vado molto veloce qui ma poi casomai ne parliamo, queste riforme sono tutte economiche, questi erano convinti che la questione nazionale era risolta, in parte era vero, che la questione contadina non si riusciva a risolvere, però avevamo i soldi, c'erano i soldi per importare grano e carne, grazie al petrolio, ma erano ancora convinti sulla base, quello vi ho detto del 56, che il loro sistema fosse superiore a quello occidentale, che la colpa era della corruzione dell'alcolismo. La lettura che voi trovate è una lettura molto primitiva della crisi, se voi leggete i documenti, anche perché siccome c'era stata la repressione del dissenso, la libera discussione, nessuno poteva dire quello che pensava, quindi era una lettura molto, se volete, sì, io direi primitiva delle leggete libri, uno non ci crede che una superpotenza, c'è un'elite che fa un'analisi così povera della sua situazione interna. E quindi che bisognava fare? Il sistema era buono, però era malato perché la gente si prendeva l'alcol e si faceva corrotto. Quindi se io mettevo in galera i corrotti e viettavo l'alcol, il sistema si avrebbe ripreso. È una visione, appunto, ripeto, assurda. Il problema è che loro però lo fanno. Già Andropov inizia a farlo, ma Gorbaciov, i suoi primi messaggi, si deve ricordare poi è diventata famosa come perestroica, intesa come ristrutturazione radicale, ma la prima ondata di riforme veniva chiamata uscorienie, che vuol dire velocizzazione. Cioè il nostro sistema è buono e noi lo facciamo diventare molto più veloce perché vietiamo l'alcol e mettiamo in galera un sacco di dirigenti comunisti. Ivi compresi la figlia di Brezhnev, il suo amante, non viene messo in prigione, ma insomma vengono fatti dei processi. Cioè facciamo vedere che qui non si scherza. E quindi un sistema meraviglioso pianificato dimostrerà a tutto il mondo, tenete presente che cinque anni prima Lenzioping ha abolito tutto questo e ha messo in moto lo straordinario miracolo economico cinese, no? Facendo questo. Nell'87 sono già in una crisi nera economica, nel senso che mancano sempre più beni, la gente è sempre più arrabbiata perché c'è il predizionismo, lo Stato, la vendita di alcolici era una delle rendite principali dello Stato, ovviamente tu l'abolisci vuol dire che lo Stato va in deficit. Quindi c'è una stampa di carta moneta ulteriore, inflazione. Nell'87 Gorbaciov si rende conto che queste riforme non funzionano e inizia a pensare che non funzionano perché è il partito che trama contro tutti. E quindi parte all'attacco del partito. Nell'88 viene vietato, viene di fatto sciolta la segreteria. Voi sapete il sistema del partito Stato, questo gli ultimi tre minuti era interessante, funzionava così. E c'erano i ministeri, che controllavano tutto perché pure i condomini erano statali, no? E dentro il comitato centrale ogni ministero aveva una sezione del comitato centrale. Per cui non c'era il mercato, ma se c'era una lite fra io che sono il ministro di non so che, lui e il ministro di non so che, litighiamo, o i nostri sottoposti, si va alla sezione del comitato centrale e sono loro che dicono come è. Cioè il partito era il mediatore finale di ogni cosa. Era quello che assicurava però anche l'unità della politica, anche economica. Se tu chiudi la segreteria in un partito Stato, salta tutto. Lui la fa saltare perché pensa il partito, lotta contro lui, in parte ormai è un po' vero, e soprattutto perché non riesce a spiegarsi per carenza di analisi perché non funziona la sua cosa. L'altra cosa interessante è che, l'altra invenzione geniale di Lenin, geniale non perché era bella, ma del partito Stato, è che lo Stato era federale. Nella Costituzione ogni Repubblica aveva il dritto dell'autodeterminazione fino alla secessione. Nel 91 si è potuta applicare la Costituzione quando si è sciolta l'Unione sovietica. L'Italia è una Repubblica una indivisibile, come quella francese. Lì ogni Repubblica se ne poteva andare, perché era una struttura federale basata sui vecchi slogan dell'autodeterminazione radicali del 1917 di Lenin. Il problema è che il partito non era federale. Mentre la Repubblica Ucraina aveva il dritto di andarsene, il partito ucraino nello statuto segreto del partito era una federazione regionale del partito dell'Unione sovietica. Non aveva alcun dritto. Se Mosca voleva cacciare il segretario del partito, non so come dire. Quindi voi avevate un sistema formalmente federale con dentro un guanto di ferro, diciamo un pugno di ferro non federale per niente. Il partito non era federale. I vari partiti erano come da noi un tempo le federazioni locali. Quando lui scioglie la segreteria, di fatto non solo danneggia il coordinamento socio-economico, io credo non si potesse fare altrimenti, era una situazione che non funzionava più niente. Erano già in avvitamento, ma soprattutto a quel punto sciogliendo il potere del partito inizia a dare più sostanza di nuovo anche alle Repubblica. Allora, questo porta molto rapidamente alla crisi. Io adesso di questo non ne posso parlare, vorrei smettere per le domande. Ecco, tenete presente però che l'Occidente, che fino al... Pensate a Reagan, questo lo dico magari anche per parlare del dopo, che Reagan è partito col famoso discorso l'impero del male. Reagan essendo un ex attore non era fesso, è come in Italia, per niente. Però se come un ex attore usava il linguaggio di Star Wars, di guerre stellare, no? L'impero del male. Reagan ha finito, come voi ricorderete, con i viaggi trionfali a Mosca, con Gorbachev l'amico mio, con gli aiuti. Bush, Bush Senior, nel 91 è andato dagli ucraini a pregarli di rimanere in Unione Sovietica. Si sono dati all'Unione Sovietica un sacco di soldi. Non è vero che è stata sciolta all'Occidente. L'Occidente ha fatto di tutto per tenerla in piedi. Cioè la politica occidentale, da Schulz, che era il segretario di Stato dell'ultimo Reagan, fino a Baker, che era il segretario di Stato di Bush Senior, ha fatto una politica molto pro-sovietica. Quando non si è riusciti, ancora ripeto, Bush ha fatto, l'ho andato a trovare, in America quelli di destra lo chiamarono un chicken speech, per dire uno che aveva paura, il discorso di un pollo. Era andato a fare un discorso, cioè non lasciate Gorbachev solo. E hanno cercato di tenere in piedi. L'Unione Sovietica è crollata, è crollata con tutte queste sue contraddizioni. Io oggi devo parlarvi di questo, ma è chiaro che tutto questo passato qui, io non credo che il passato determini il presente, ovviamente. Il presente è anche il frutto delle scelte, però più uno lo nasconde, più uno non ne tiene conto, più pesa. Io credo che dietro gli anni 90 della Russia e dell'Ucraina e la loro evoluzione, che ha portato con 30 anni di ritardo alle guerre, perché prima di arrivare alla guerra ha dovuto morire quella classe dirigente sovietica che era contraria all'uso della violenza, che era nata in opposizione a Stalin. Khrushchev diceva sempre, ho le braccia nel sangue fino ai gomiti, io non uso più la violenza. Questa è una cosa molto sentita ai dirigenti sovietici. Anche da Brezhnev, quando Khrushchev viene messo in pensione, non viene ammazzato, faceva il pensionato a Mosca, che la violenza era una cosa che non si usava. Sì, si mettevano quelli in galera nei manicomi, però se i centriali li curiamo, le torture, la violenza, se possibile, no. Ecco, è dovuta morire un'elite di questo tipo ed è dovuta venire fuori un'elite diversa, che poi è quella sostanzialmente, secondo me, putiniana, che però ha fatto un discorso talmente falsificatorio rispetto al passato sovietico che ha fatto di fatto venire fuori, secondo me, gli aspetti peggiori. Perché non c'erano solo quelli, c'era anche quell'altra cosa buona di cui io parlavo, l'umanitarismo, se volete, che c'è stato. Io vi ringrazio, mi fermo qui se ci sono domande, grazie. Allora, abbiamo il microfono che arriva. No, la può fare col microfono. Sì, in modo che anche, visto che la... Io ne prenderei tre alla volta, però brevi. così nella trasmissione in streaming e così anche la sentono. Ecco, dopo due e tre, perfetto. Però anche qualche donna, per solo uomini, no. Allora, per ora tre uomini, domande brevi, prego. E poi due qua. Bene, volevo chiedere una cosa molto rapida. Il crollo del... Pronto? Mi sente? Si sente? Sì, sì. Ecco. Allora, il crollo dell'Unione Sovietica può essere considerato anche il crollo del comunismo? Questa è una domanda. Poi, un'altra cosa. Recentemente ho sentito Luciano Canfora, che lei certamente conoscerà molto bene, rimpiangere l'Unione Sovietica. Qual è la sua opinione su questo? Va bene, lì. Lei ha parlato di umanesimo, umanesimo in Russia, no. Però io vedo che i russi, scusi, i russi non sono abituati a autodeterminarsi, perché sono passati da servi della beve, dai bolshevici e adesso sono abituati a pensare liberamente se stessi. Ultimamente ho letto tutta la storia di Magliacosti, che è stato un periodo così. Va bene. Al di là di questo, io penso che i russi non hanno questa capacità di autodeterminarsi. Era impossibile riuscire a costruire un sistema con centro, destra e sinistra, cioè un sistema di tipo parlamentare come nelle altre nazioni, invece di passare direttamente dal disastro post Gorbaciov all'attuale situazione di, se non dittatura, democratura. Sì, io per far parlare di più, su ognuno di queste potrei parlare a lungo. Il crollo dell'ursa e il crollo del comunismo? No, non c'è un punto di vista, no. Penso uno deve fare uno sforzo di onestà, al di là di quello che pensa uno che sia il comunismo. Se i cinesi dicono che sono comunisti e i coreani dicono che sono comunisti, e sono tanti, uno deve riconoscere che ci sono i comunisti. Non so come dire, al di là delle proprie preferenze, ci sono parecchi paesi che si definiscono comunisti. In Cina, che è il più grande stato del mondo, adesso l'India è un po' più grande forse, è comandata dal Partito Comunista Cinese. Uno in questo deve essere molto, secondo me, rispettoso della realtà. Detto questo, se uno si chiede, ma allora non bisogna aspettare il 91, perché probabilmente già il discorso di Khrushchev del 56 è questo. Se il comunismo ideale finisce nel 91, in realtà era finito, l'aveva già detto il Papa, che non funzionava, non so come dire. Khrushchev, il segretario del Partito Comunista, ha detto che non funziona. In realtà molti l'avevano già detto negli anni trenta, dopo le terribili cose degli anni trenta. Se voi pensate a come è evoluta la soluzione, siccome uno non può pensare che Stalin fosse uno stupido, uno non marxista, uno non socialista, perché non lo era. Era molto intelligente e ci credeva. Lenin era così, Mao Zedong era così, Kim Il Sung era così. Quindi c'è un problema, diciamo, direi. Qual è il motivo? Il problema non voglio toccarlo. Io credo per Luciano Canfora, che posso dire? Ognuno ha le sue preferenze, credo sia esattamente quell'incapacità. Dice a lui che piaceva l'Unione Sovietica. Io avevo una mamma comunista che diceva sempre che gli piaceva tantissimo quando era giovane col fascismo perché andava a fare le gare, la portavano a fare le gare di corsa, che lei prima le donne non potevano e col fascismo si organizzava. Uno guarda quello che vuole del passato, non so come dire. Io penso a se un signore c'è una certa età e gli piace pensare a quando è ragione c'è l'Unione Sovietica. Più di questo non posso, che posso dire? Non è che l'ho fatta crollare io né Canfora. Cioè è un po' così, è crollata. Ripeto, i dirigenti che l'hanno sciolta. C'è un libro, è stato tradotto in italiano, l'ha pubblicato il mulino, delle interviste ai dirigenti. Se lo leggete basta quello. Tutti dicono, ci piace molto avere un paese così grande, non si può reggere, non lo reggiamo. Allora, i rimpianti ognuno può avere quelli che vuole, ecco, dico solo quello. Signora, no, no, forse non ci siamo capiti, ho parlato di questo piccolo fenomeno, perché uno dice sempre che gli uomini sovietici è negativa, negativa, sicuramente. Parlavo di umanismo sovietico, non russo, nel senso che dentro la storia dell'Unione Sovietica, c'è, io credo come reazione all'estrema violenza degli anni Trenta, della seconda guerra mondiale, del secondo dopoguerra, una reazione per cui il gruppo dirigente decide che non bisogna usare la violenza. Di questo parlo, non parlo d'altro. Detto questo, quindi parlavo di quello, non dei russi in generale, detto questo io devo dire che ho difficoltà a usare categorie collettive così basse, i russi, gli italiani, gli italiani sono tutti fascisti, o sono tutti brava gente, i russi sono così. Gli ucraini, nessuno avrebbe, la cultura ucraina non era diversa da quella sovietica nel 91, che se ne dica, però in vent'anni, trent'anni, attraverso delle esperienze storiche hanno cambiato prospettiva. Io credo, scusi, è chiaro che voi, lei ha oggi un gruppo dirigente sovietico che dice apertamente di non essere europeo e di essere anti-europeo. Dice che vuole fare un mondo russo in opposizione all'Europa corrotta. Quindi sicuramente c'è, in questo momento, al potere in Russia un gruppo che è come dice lei. Detto questo, io sono sicuro che c'è dentro la Russia un sacco di, anche nel gruppo, perfino dentro il gruppo, che pensano che è una tragedia quella che sta succedendo. Quindi chi dice che nella storia non possa succedere che vincano loro? Nel 53 more Stalin, tutti si pensavano, c'era, l'ho detto, il totalitarismo, non sarebbe cambiato niente, tre anni dopo, guardate che è stata una cosa enorme. Avevate il capo del Partito Unista Sovieto e diceva no, lo stalinismo era una cosa monstruosa. Quindi io direi che tutte le cose, non per dire che come fanno i professori, è tutto sempre più complicato, perché in realtà tutto è sempre anche più inaspettato perché ci sono tante possibilità. Poi è chiaro, se lei mi dice, mi fa la domanda, messa così, ma dato il peso dell'eredità sovietica, in Russia in particolare, che era l'erede delle grandi burocrazie imperiali, della superpotenza, era più facile o più difficile venisse fuori una cosa così? Io direi con lei che era più facile che venisse fuori una cosa così. Ma non è che era detto, non so se è chiaro. la metterei così. No, no, ma ci siamo capiti. Sì, sì, ma uno vorrebbe dire anche nel governo di Borboni o del Papa, non è che uno... Sì, però adesso non possiamo fare un dialogo che devo rispondere agli altri. Sì, sì, no, no, il cinese a me sono d'accordo. Era impossibile. La soluzione parlamentare qui è la cosa, diciamo, prima rispondendo alla signora, dovete pensare nel 93, cioè due anni dopo il crollo, il partito che prende più voti alle elezioni russe è il partito di Girinovski, che è un partito molto simile a quello che poteviamo nelle sue domande. E chi lo vota, pure questa è una cosa che ci dovrebbe far riflettere, sono i poveracci. Un po' come Trump in America. Cioè che la base di questi partiti, diciamo, iperconservatori non sono i potenti di una volta, sono quelli che avevano compensato, e ho cercato di dirlo indirettamente, che avevano compensato la sofferenza con la grande potenza. E se è molto facile elaborare un discorso in cui la grande potenza me l'ha tolta un complotto dei banchieri ebrei o dei banchieri occidentali, e non possono pensare che quella grande potenza aveva i piedi d'argilla come aveva, e che gli europei e gli americani hanno cercato di sostenerla in tutti i modi. Io faccio sempre l'esempio, no? Perché se uno pensa a paesi umiliati, la Germania di Weimar è stata umiliata. avversario, sul serio. Gli contavano le cartucce ai soldati. Nel 93, io questo l'ho scritto in questo libro, ma lo dico, ma non per l'ho scoperto che lo sanno tutti, nel 93 gli americani hanno pagato centinaia e centinaia di milioni di dollari per convincere gli ucraini a ridare 4.000 bombe atomiche ai russi. Adesso in Ucraina, quando ci pensano, piangono. Questi sono perché non sarebbero mai stati attaccati, no? Ma gli americani l'hanno fatto, perché a quei tempi, chi se lo ricorda, c'era la paura di queste bombe atomiche perse. E allora sembrava un'idea molto saggia concentrarle di nuovo tutte in Russia, perché la Russia, i russi erano quelli seri. Quindi io do i soldi ai russi, agli ucraini, per ridare le bombe atomiche ai russi, perché così i russi che sono i nostri alleati, sono quelli per bene, quelli seri con cui parliamo, da 30 anni se ritengono e le controllano. Ma che umiliazione è? È come se la Germania invece togliergli le navi, le locomotive, le armi, i territori, gli avessero dato i cannoni francesi, italiani. Cioè il contrario. È veramente una lettura fantastica quella di essere prodotta in Russia, che però viene creduta da una parte della popolazione e quindi diventa vera. E voi sapete come me che è una cosa falsa. Se la gente ci crede è vera, è a tutti gli effetti. Vediamo altre domande. Eccolo qua. Una, due, tre. E poi lì c'è una quarta. Ma il microfono dov'è? Ma velocissimamente, perché è un po' ingenuo quello che dico, ma visto tutto quello che abbiamo sentito, siccome abbiamo anche i capelli bianchi, insomma abbiamo anche visto, dove stava tutta questa attrattività in Italia, nella cultura italiana, soprattutto nel dopoguerra, rispetto al mondo sovietico, no? Cioè come mai per anni, io vengo da quella parte lì, ma insomma sono tra i primi pentiti, no? Come mai per anni tutta la cultura italiana si è beata di un qualcosa che non aveva senso? Tutti sapevano come stavano le cose. Allora, al di là di un astratto, una astratta idea molto, molto vaga, molto stupida del comunismo, cosa c'era che attraeva la leadership italiana? Ho capito, sentiamo. Credo di avere una risposta, ci ho pensato anch'io. Sono stato in Cina, sono stato in Cina nell'85 e sono rimasto meravigliato che la spina dorsale del cambiamento in essere era l'esercito. Per chi non è intervenuto l'esercito e non è stato utilizzato l'esercito nel cambiamento in Corsia? Cioè un'unione sovietica. Unione sovietica. Buonasera. Prego. Volevo un suo commento. La corsa alla conquista dello spazio, la corsa tecnologica, non solo intesa come confronto tra due sistemi politico-economici, ma anche in quello che poi è successo nella tecnologia, nella vita di tutti i giorni. da noi la tecnologia da lì è partita e ne vediamo le conseguenze. In Russia mi sembra che questo non sia avvenuto. Sì. Su un commento. Sì, allora, la prima... Io penso che c'è una legge generale. Mi permetto di avanzare la seguente legge generale. Che uno si comporta non sapendo quello che c'è lì, ma sulla base di quello che gli fa schifo qui. E che questo... Ma questa è una legge generale anche nella vita familiare, nella nostra vita. Che io guardo quello che non mi piace e tendo a credere alla qualunque di quello che non conosco. Perché la seconda legge generale è che uno non giudica mai in base a quello che conosce. È abbastanza impressionante. Cioè uno, anche quando dà dei giudizi, io non dico che uno può sempre fare per... Perché non sempre uno trova delle cose, come dire, valide, delle parallele... Però molto spesso, se io vedo che non funziona una cosa, molto spesso non funziona per dei motivi generali che magari non capisco. Quindi se io vedevo che per esempio non funzionavano alcune cose che vedevo quando andavo lì, potevo tirarci fuori le teorie. Questo pure non viene mai fatto. Cioè uno non ragiona mai in base a quello che conosce. Che invece sarebbe in genere meglio. Però la prima legge generale è che tutte le persone giudicavano in base a quello che non gli piaceva qui e che conoscevano e non in base a quello di là di cui in realtà non gli importava niente. Se posso esprimere la mia... E credo che sia abbastanza vero. E guardate che questo si è ripetuto. Lei ha parlato di pentiti, io non sono un pentito, non bisogna mai pentirsi. se no uno finisce a fare le cose appunto dell'impianto. Questo è vero per tanti che hanno lasciato sia la sinistra che la destra. Vale per tutto. Che comunque hanno continuato a essere dominati da quella cosa che li aveva, come dire, attirati. E che, pur allontanandosi, hanno continuato a guardare a quello e sono finiti senza accorgersene in delle compagnie assolutamente assurde. non so come dire. Ma questo vale sia per... Cioè che uno guarda sempre quello che gli piace o quello che non gli piace. Ma non guarda... Questa è la mia risposta. Detto proprio... Credo sia... Non... L'esercito in Unione Sovietica mentre in Cina c'era una forte politicizzazione dell'esercito che era cresciuta enormemente perché dovete pensare alla grande rivoluzione culturale proletaria il cui slogan era bombardare il quartier generale cioè il partito. Mao Zedong era in minoranza nel... Mao Zedong ha fatto una cosa che si chiama il grande balzo in avanti nel 56-59 che ha provocato una carestia si pensa con 35-40 milioni di muro. Nel 61 gli hanno tolto il potere quelli come... I suoi amici come Tenzi Ho Ping Liu Shao Kik che era il presidente poi morto di fame in cantina gli hanno tolto il potere e gli hanno detto tu stai buono adesso facciamo le riforme. e hanno cercato di fare le riforme Mao Zedong a quel punto che era però una grande figura con tantissimi sostegni ha lanciato la grande rivoluzione proletaria il cui slogan ripete era bombardare il quartier generale cioè il partito. Infatti Da Enzi Ho Ping ha sofferto Liu Shao Kik ha sofferto tutta la parte dirigente del partito è stata spazzata via lo ha fatto usando le guardie rosse ha provocato una seconda catastrofe se voi leggete dei suoi conti di quale è stata la rivoluzione naturale in Cina è un'altra cosa che uno dovrebbe come era possibile che uno non si rileggesse non si sa e a un certo punto per riportare la situazione in ordine c'era una guerra civile di fatto tra bande lo stesso Mao ha dovuto chiamare l'esercito quindi l'esercito all'inizio degli anni 70 è stato quello che ha riportato l'ordine in Cina quindi avevate un esercito molto politicizzato e molto usato nella politica e che era uno strumento usabile in un'unione sovietica è molto interessante la storia è completamente diversa perché Stalin aveva una paura dell'esercito Stalin dopo il 47-48 per esempio chi è il simbolo della vittoria oltre a lui è Zhukov ve l'ho detto sul cavallo bianco il maresciallo Zhukov viene allontanato da Stalin che non lo ammazza ma lo avrebbe voluto ammazzare torna al potere è quello che va a arrestare Beria fra l'altro nel 53 con i suoi ufficiali riprende il potere con Khrushchev e poi viene di nuovo allontanato perché hanno paura che Zhukov torna in piazza nel 65 una storia fantastica quando c'è la prima sfilata e tutti si inchinano perché tutti lo sanno che lui è lo stratega della vittoria e questo porta già al fatto che viene di nuovo messo da parte cioè l'esercito sovietico è un esercito depoliticizzato non ha non so come dire non ha la stessa tradizione quindi la domanda sull'esercito è che è un esercito depoliticizzato sulla corsa tecnologica qui c'è molta incomprensione perché dice ah ma erano più avanti erano più avanti in maniera molto relativa questa cosa non più avanti fu anche il mito americano gli americani sono più avanti noi hanno mandato lo Sputnik poi Gagarin poi lo Sputnik faccio presente voleva dire che ho i missili intercontinentali il problema è esattamente quello che la tecnologia sovietica essendo inferiore non avevano gli aerei per colpire gli Stati Uniti per buttare le bombe atomiche sugli Stati Uniti scusate bisogna parlare in questi termini che quella era la guerra presta se io non ho gli aerei perché sono fare un aereo che ha un'autonomia di volo come B-52 è una cosa complicatissima ho bisogno dei missili allora la missili gli americani non hanno bisogno dei missili tra l'altro non le basi in Europa con i B-52 che arrivavano a Mosca senza problemi in men che non si dice i sovietici usando la tecnologia tedesca come anche gli americani poi quando hanno avuto bisogno Ferner von Braun quello che gli ha fatti i razzi era un altro scienziato nazista perché la missilistica più avanzata era quella tedesca nel secondo dopo durante la seconda guerra mondiale i sovietici l'hanno usata subito perché non gli aerei e per questo e puntavano a fare scusate i razzi quelli che andavano sopra l'atmosfera come si dice perché erano quelli che potevano arrivare dall'altra parte e anche così in realtà in che siamo riusciti a fare alcuni voli non ci riuscivano tanto questo abbiamo scoperto dopo perché gli esplodevano perché avevano i come si dice carburanti instabili voi per fare 500 razzi con le bombe nucleari devono partire tutti noi ne possono partire 50 gli altri 500 esplodono tant'è vero che è il motivo per cui Khrushchev nel 62 ha messo i missili a media gittata a Cuba perché un missile a media gittata a Cuba è come un missile intercontinentale perché colpisce Washington non so se è chiara la cosa quindi in realtà il vantaggio tecnologico che anche gli americani era molto relativo molto relativo e gli americani non a caso poi quando invece hanno deciso erano sotto dovevano sviluppare la missilistica hanno fatto il programma lunare e hanno vinto la corsa alla luna diciamo così quindi ecco la risposta in pochi anni quindi direi che era un'illusione tecnologica e che lì hanno sviluppato prima la missilistica perché non hanno la tecnologia sufficiente a fare aerei in grado di fare quello anche perché i bombardieri sovietici erano copie dei B-29 americani sostanzialmente all'inizio non avevano una cosa così mi pare che questa fosse l'ultima io non lo so dobbiamo scappare io sono disposto a restare però mi hanno detto dovremmo chiudere entro le 19 però se ci sono due domande brevi brevi la signora qui si stanno alzando prego dobbiamo chiudere basta allora chiudiamo facciamo la signora che è qui vicino dai prego io penso che Putin è stato letto male Putin era molto più ideologico io credo adesso abbiamo tutti i documenti oppure non seguivo queste cose non studiavo Putin Putin per dirne una sola nel 2004 5 ha fatto tornare in Russia quindi ci pensava da prima le ceneri del principale pensatore fascista russo Ilin e ha fatto un discorso sulla tomba che ha messo in un cimitero storico importante rivendicando il pensiero di Ilin cioè della grande Russia anticomunista infatti poi si è presa con l'Eni cioè era molto ideologizzato e antioccidentale molto prima e quando questa è l'allergia quando i nostri leader andavano lì e dicevano no è uno pragmatico era semplicemente che si sentiva deboli e che una volta c'è stata la crisi del 2008 poi Obama che ha detto non mi importa niente politica estera così ha detto e poi sostanzialmente e poi soprattutto diciamo la follia americana di dire alla Cina prima ti faccio crescere poi non ti riconosco lui ha visto la possibilità io credo ci sia una lettura ideologica di Putin che è molto più forte di quello che io stesso pensavo ecco ci sono due libri a proposito l'Ucraina e Putin tra storia e ideologia occidente e modernità che invito a leggere e a acquistare in fondo ringraziamo il professor Graziosi questo è l'ultimo appuntamento e riprenderemo a settembre grazie ancora e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti